Il Tar del Lazio ha rispinto il ricorso di Francesco Macri di Estra e del Comune di Arezzo contro la delibera di ANAC che nel novembre del 2021 lo ha dichiarato decaduto dal ruolo di Presidente di Estra che ricopriva dal 2016. Incarico inconferibile in base alla legge Severino secondo l'autorità nazionale anticorruzione che non poteva essere indicato per il CDA di Estra partecipata dal Comune di Arezzo attraverso Coingas in quanto consigliere comunale. La questione approderà quasi sicuramente al Consiglio di Stato non accolta l'impostazione dell'avvocato Gaetano Viciconte che aveva chiesto il reintegro di Macri sulla base di pronunciamenti su vicende analoghe. Secondo l'anticorruzione la nomina di Macri come detto non sarebbe stata legittima in quanto Estra e Società di Diritto Privato sotto controllo pubblico e la Presidenza prevedeva deleghe gestionali inconferibili ad un consigliere comunale appena dimesso per assumere quel ruolo sempre secondo ANAC. Per le dimissioni secondo ANAC non era trascorso il cosiddetto periodo di raffreddamento di due anni.